Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come L'ex talento di amici, fuori dalla scuola, non ha avuto vita facile Loredana Errore, dopo l'incidente, ha dovuto iniziare da capo Loredana Errore oggi non è cambiata solo fisicamente ma anche interiormente, la sua è stata una vera e propria rinascita La cantante ha partecipato alla nona edizione di Amici, alla stessa partecipavano anche Emma Marrone e Stefano De Martino, per il suo modo di interpretare le canzoni si è fatta subito notare lasciando spesso sbalordita la commissione Non solo, a notare Loredana è anche il cantautore Biagio Antonacci il quale scrive un testo appositamente per lei ragazza occhi cielo tenendo un notevole successo e ricevendo molti premi tra cui l'Wind Music Awards Dallo stesso EP vengono estratti altri due singoli che le permettono ancora una volta di trovarsi nella classica dei brani più ascoltati del periodo La vita oggi di Loredana Errore.Non tutti sanno che la 37enne cantante è originaria di Bucarest in Romania, ed è stata adottata dalla sua attuale famiglia di Agrigento all'età di due anni, fino ad allora era stata in un orfanotrofio dove l'avevano abbandonati i suoi genitori Amici, ricordate Loredana Errore? Oggi molto diversa.Lei purtroppo non è mai riuscita a conoscere l'identità dei suoi genitori biologici ma non per questo si è mai sentita diversa anzi ha dichiarato che ringrazia sua madre per averla messa al mondo La cantante ha dichiarato ad un'intervista su Rai 1 di avere fin da piccola molta fede e questo dal suo punto di vista l'ha aiutato molto ad affrontare il periodo terribile che ha passato Ha detto che la sua forza che l'ha sempre contraddistinta è servita a stare sola con lei stessa quando si è ritrovata ad affrontare la rinascita Il tragico incidente che ha cambiato la vita.Loredana ha avuto un tragico incidente ad Agrigento in una giornata di forte temporale, da questo incidente esce con ferite al volto e gravi lesioni alla colonna vertebrale, da lì la rinascita ha piccoli passi dove ha dovuto di nuovo imparare a far tutto A seguito dell'incidente Loredana subisce un procedimento giudiziario per guida in stato di ebrezza, dalla quale esce però con la soluzione definitiva Oggi Loredana, come mostra sui social, sta riprendendo in mano la sua vita provando ancora una volta a realizzare il suo sogno, quello di vivere di musica Ma l'incidente le ha sicuramente cambiato la vita.Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao